Questa settimana si osserva una sostanziale tendenza alla stabilizzazione del tasso d'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese. Siamo a 386 casi per 100.000 abitanti, mentre la scorsa settimana eravamo a 388 per 100.000. L'RT mostra invece una lieve tendenza all'incremento, siamo a 1,14, quindi ancora al di sopra della soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 13,3% e al 3,2%, quindi mostra una tendenza all'incremento, anche se siamo e rimaniamo al di sotto di qualsiasi soglia di criticità, quindi ben lontani da situazioni di congestione delle strutture sanitarie.